Siamo qui con Andrea Binelli, l'ultimo arrivato a Gudrio, con i giochi sia in bidirettanti sia in Under 19, domenica prima di campionato, primi due punti, come si dice di questa tua seconda partita in bidirettata? Ieri poi hai fatto 18 punti a Bologna contro Fortitudo, prima vintorio nel 2019, come ti trovi con il primo mediante? Siamo arrivati alla prima vittoria, un gruppo di sconfitte, sono un gruppo buoni, il gruppo deve ancora lavorare, siamo ancora una squadra molto nuova e andiamo a lavorare bene. Molto una cosa, la stagione è a Budrio, poi gli obiettivi? Siamo arrivati a fare il carattere che fino adesso dovrebbero fare il video e cercare di fare il segno. Perfetto!